Bella ragazzi, io sono Martix, bentornati sul nuovissimo video di Fortnite E mi dicono che tra poche ore arriverà una ventata di news, contenuti, leaks e quant'altro Sperando che vadano ad attivare anche l'evento di cui vi ho parlato ieri ragazzi Eccovelo qui, Alter Ego vs Ego, ovvero ombre contro spettri Presto disponibile ma oggi potrebbe essere il giorno Quindi ragazzi torniamo nel menu principale e eccovelo qui l'annuncio Tempo di inattività programmato, il periodo di interruzione di servizio per la patch 12.10 Inizierà alle 4 in start time, ovvero alle 10 del mattino come al solito E sapete che cosa vi dico? Che io vi aspetto in live, indipendentemente se siete a scuola oppure no Perché delle live del genere non possono mai mancare ragazzi, mai Prima di imboccare la via per lo shop giornaliero, addirittura oh Voglio farvi una domanda ragazzi Ma perché, perché e perché volete farvi prendere in giro? Ovviamente questa domanda non è indirizzata a tutti Ma alla maggior parte della community che crede a qualsiasi cosa venga detta da chiunque Belli mie, adesso vi parlo proprio come un fratello maggiore Seriamente non fatevi prendere in giro da tutti quanti Davvero sono una di quelle persone che odia tantissimo il clickbaiting E viene portato anche da canali più grossi del mio È una cosa che proprio mi infastidisce Per una manciata di iscritti in più e visualizzazioni farebbero di tutto, credetemi La cosa triste è che da due giorni, dal momento in cui abbiamo portato il video della moneta su YouTube Non c'è altro, ma anche a livello americano raga Non sto parlando neppure a livello italiano Canali che scrivono nel titolo Oggi vi mostro tutte le posizioni delle monete d'oro Apri il video, dieci minuti più ovviamente Per tutto il tempo del video non senti altro che dire bla 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 Supporta creator, ti scrivi e faccio troppo di questo, faccio troppo di colette Va bene, non dice nulla ragazzi L'unica cosa che mostra è questa dannatissima moneta che viene data spaccando il quadro Ed ovviamente poi un'altra cosa raga Un'altra cosa molto importante Se andate a vincere una partita con questa moneta nell'inventario Non ricevete né 100 V-Bucks, né 200 V-Bucks, né 300 V-Bucks, né 400 V-Bucks Nel momento in cui tornate nella lobby Se ci fosse stata una cosa del genere e avesse workato Credetemi che ci sarebbe stato il video sul canale Nel momento in cui questa moneta sarebbe stata trovata Perché sì, lo avrei detto ad ogni singola persona che forma questa bellissima community di Fortnite Credetemi sarebbe stato impossibile vincere una partita con questa moneta Credetemi Quindi ragazzi, basta disinformazione Se ci saranno news che riguarderanno questa moneta, quest'oggi post-update Ve le porterò qui subito sul canale Perché può darsi che ne andranno ad attivare delle altre, chi lo sa Detto questo, noi ci spostiamo nello shop giornaliero E vediamo che cosa hanno droppato ragazzi Andiamo Rieccoci il menu principale e andiamo a cliccare su negozi oggetti Questo è lo shop di oggi e non mi piace per nulla Però abbiamo una nuova emote da 200 V-Bucks Grazie mille amici per questo regalino Si chiama Few Serio? Perdonatemi, rifatemi ascoltare Potevano tranquillamente piazzarci un Ah bella dietro, che dite? Per un secondo Quasi mi preoccupavo Continuando con le emote ragazzi Abbiamo un dash dentro Che bel sound che ha questa Oh yes Vai così E poi Infinity Tab A quant'è arrivata questi emote raga? 13 oppure 14 ore Non ricordo Che poi ci sarebbe proprio da fare un test E vedere se è vera la cosa Ascia borchiata Soddisfacente Soddisfacente Andiamo, Milite d'Assalto Che possiamo appunto Metterla con ascia borchiata Tranquillamente ragazzi Due item da 800 V-Bucks L'uno Stella ammantata Carinissima ragazzi Backpack normale Molto slim rispetto a tutte le altre skin Ragazzi andiamo indietro Cryptico E ecco la qui ad oggi Dovremmo avere la sua mogliettina Fatemi vedere No, non è uscita la mogliettina Dove sta la mogliettina? Non hanno messo la mogliettina Ma scusate Perdonatemi Set Cryptico E non hanno messo lei Che è uscita tra l'altro una settimana fa Non ha senso la cosa Perché mi metti set Cryptico Che tra l'altro Lui spacca Il backpack pure Raga da paura Lavrap E non mi metti lei Non capisco ragazzi Vabbè Sorpasso Belle skin Raga fatemi vedere Fatemi vedere Mamma mia Bianca e ciecante Proprio Che bella che questa skin Senza casco Ancora meglio Questi deltaplani Vi dico la verità Non li ho mai utilizzati Lui Non mi ispira molto Però Skin normale 1500b bucks Anche lui Questo sembra essere Molto molto più potente Ma No 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 Non lo andrei ad utilizzare mai In game Seriamente No 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 Oddio Dove sto andando La skin astra Le avrà costellazione Due item Veramente belli Presenti nello shop Di oggi Secondo stile per astra Ecco velo qui Ed il primo invece è questo Lo preferisco di gran lunga Il backpack invece Si può Diciamo Utilizzare con tantissime Altre skin Oltre a questa Veramente tante Anche perché i backpack Semplici così Stanno bene ovunque Passiamo poi Alla copertura Guardate qua che bellezza Vabbè Raga Davvero Sulla barca come Ok 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 Vabbè che quando andiamo a flippare L'item Sembra un po' strana Mi sa che l'avevo già detto Nel video precedente Però mi piace tantissimo Davvero È molto ben fatta Ragazzi perdonatemi per questo Shop super flash Un video davvero breve Però tra poco si scappa In stream Quindi vi aspetto in live E come sempre vi ricordo Che se volete Potete supportarmi Tramite tutti i vostri acquisti Cliccando qui In basso a destra Sulla voce Supporta un creatore E digitando poi Al centro della schermata Il mio code JKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo minuscolo È sempre UAL L'importante è cliccare Come al solito Su accetta E riaggiornare il code Ogni 14 giorni Io spero che questo breve video Vi sia piaciuto Se così fosse raga Mi raccomando Lasciate tantissime like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E noi ci becchiamo Tra pochissimi live Oppure in un prossimo video Un salutone da Martex Ciao Brutus